Ancora senza esito le ricerche di un detenuto di 50 anni di Ortona che ieri mattina, dopo una licenza premio, non è rientrato nella casa circondariale di Villa Stanazzo a Lanciano, dove si trova il regime di semilibertà. Si tratta di un detenuto di media sicurezza, detenuto definito comune in relazione ai reati per i quali sta scontando la pena che termina nel 2032. Da ottobre si trovava nel carcere di Lanciano e gli era stata concessa la semilibertà che gli consentiva di lavorare e di assistere il padre anziano. Aveva tre giorni di licenza premio, sarebbe dovuto rientrare nella mattinata di ieri. I controlli da parte della polizia penitenziaria insieme a quelli dei carabinieri di Ortona sono scattati subito. È stata controllata l'abitazione di Ortona, dove risiede il padre dell'uomo, un ultraottantenne, ma l'abitazione è stata trovata senza nessuno. Dopo 12 ore dal mancato rientro è scattato il reato di evasione per il cinquantenne. I primi controlli effettuati sono stati fatti nel posto di lavoro, un'azienda di Ortona. Il detenuto pare avesse una compagna che risiede in Romania. Ovviamente le ricerche continuano a tutto campo, estese anche a livello nazionale.